Buongiorno, Vincenzo Longo dalla Sala Operativa, DG di Milano. Partenza di settimana positiva per le borse europee che saranno orfane di Wall Street e chiusa oggi per la festività del President Day. Nonostante il sentiment sul mercato rimanga abbastanza fragile, gli investitori sembrano voler approfittare delle possibilità di rimbalzo che offre il mercato dopo il forte ipervenduto generato nelle ultime settimane. Le possibilità di recupero potrebbero essere importanti, anche dell'ordine del 10%. A fare in qualche modo da traino al mercato è l'attesa del discorso di Draghi di questo pomeriggio davanti alla Commissione bancaria del Parlamento europeo. Non possiamo escludere qualche battuta a favore del settore bancario dopo le turbolenze delle ultime due settimane. Sul fronte macro continuano a deludere le figure cinesi sulla bilancia commerciale che a gennaio hanno visto un senzimile calo sia dell'import che dell'export che in qualche modo il mercato poteva aver già incorporato nei recenti cali. Dellute anche il PIL del Giappone, sceso oltre le attese nell'ultimo trimestre dell'anno. Nonostante tutto il Nikkei ha terminato le contrattazioni con un più 7%, segnando così la miglior performance dal 2008 a questa parte. Difende i guadagni anche il greggio dopo il più 10% registrato venerdì. Le ultime notizie arrivate dall'Irano sull'aumento dell'export verso i paesi europei non sembrano aver scosso gli operatori che continuano a puntare su un taglio della produzione a livello globale. Sui mercati la fase di risconno torna a indebolire la moneta unica, con il cambio a euro-dollaro che stamane è sceso nuovamente sotto quota 1,12. Un primo livello di supporto passa per 1,11,60 a bottom di martedì e mercoledì scorsi, nonché il secondo livello di ritracciamento di Fibonacci nell'ascesa partita a febbraio. Solo un cedimento di tale riferimento grafico riaprirebbe l'opportunità di un nuovo test al supporto strategico collocato a 1,10,60, dove passa ora anche la media mobile a 200 giorni. Solo sotto tale livello il cambio potrebbe tornare ad oscillare nel trading range su cui è scambiato a cavallo tra dicembre e gennaio. La prima resistenza passa invece a 1,12,70, a livello oltre il quale gli acquisti potrebbero ripartire in direzione di 1,13,76 massimi della scorsa settimana. Per un allungo più importante sarà necessario tornare sopra la trendline rialzista che ha guidato le quotazioni per gran parte del 2015 e che ora passa a 1,14,20. Anche il DAX questa mattina continua a dare eseguito a un rimbalzo importante. Il primo target interessante rimane collocato a 9.300 punti, più volte supporto durante il 2015, e area di transito della media mobile a 200 settimane, violata la scorsa ottava. Il superamento di questo livello potrebbe dare eseguito a un recupero più importante, allontanando temporaneamente il pericolo di nuove immediate ricatute. I target più importanti in questo caso rimangono collocati a 9.600, 9.930 e poi 10.150 punti. Quest'ultimo livello rimane strategico su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Probabilmente qui le vendite potrebbero ripartire a veste le continue incertezze presenti sul mercato al momento. Nuove indicazioni di debolezza potrebbero affiorare invece nel caso di un fallimento del test a 9.300 punti, eventualità questa che riaprirebbe a nuove vendite. Il primo target rimane a 9.000 punti e poi 9.700 punti, minimi della scorsa settimana. Non escludiamo che il mercato possa aggiornare le vendite in direzione di 8.400 punti, bottom di ottobre 2014 a questa parte. Tra le commodities il Brent oscille intorno ai 33 dollari al barile. Un superamento di 33,50 dollari aprirebbe a un allungo in direzione di 36,60 dollari, massimi di fine gennaio e bottom del mese di dicembre. Una perentoria vittoria di tale livello aprirebbe a un raggiungimento della resistenza dinamica dettata dalla trendline ribassista che congiunge i massimi del 2015, ora in transito poco sopra 41 dollari al barile. Improbabile superare questo livello, a meno che non ci sia un taglio della produzione di greggio su scala globale superiore anche al 10%. Indicazioni ribassiste si avrebbero con una discesa sotto 32 dollari, con obiettivo 30 dollari, minimi della scorsa ottava. Sarà importante resistere su tale livello, onde evitare un rapido deterioramento delle prospettive con target su 28 dollari, 27,80 dollari. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e buon trading.